In collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Paganella Schi, Val di Fiemme, Schirama Dolomiti, Adamello Brenta. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Omobonia al quinto appuntamento settimanale con S4, il Toshow di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Quinta puntata delle eventi previste per l'edizione 2020, nona edizione, siamo in onda tutte le settimane, da gennaio fino a giugno per parlare dei grandi eventi della stagione. Ringrazio gli amici che ci sono venuti a trovare in questa prima parte, da Madonna di Campiglio, Tullio Serafini, presidente dell'azienda per il turismo, grazie Tullio per essere venuto qui da noi, e poi dalla Valle del Chiesi, il media manager di questa bellissima comunità, la Valle del Chiesi, Diego De Carli, due ospiti per parlare del Trentino occidentale, la seconda parte spazio al Trentino orientale con Felice Canclini e Virna Piero Bon della Val di Fassa. Quindi una stagione che è andata molto bene, ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate, è iniziato bene a novembre, avanti sino a dopo Pasqua, grandi nevicate, ora è la settimana di carnevale che dopo Natale è il clou della stagione. Giusto Tullio, Manoli Campiglio, la perla delle Dolomiti, Dolomiti di Brenta, conosciutissima per lo sci invernale, ma anche per il suo valore ambientale, per la natura che ha, grazie anche alle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità. Sì, buongiorno Floriano, buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. Sì, diciamo che noi abbiamo, il Trentino è una regione di grandi pregi ambientali e noi, ovviamente parlo per il nostro ambito, abbiamo un territorio meraviglioso, un territorio unico, abbiamo questa caratteristica direi unica, dove questi due gruppi di montagne, anche geologicamente così diversi, si incontrano. Dai Alpi, il maestoso gruppo dell'Adamello e della Pressanella da un lato, con i suoi ghiacciai, il ghiacciaio dell'Adamello è uno dei più estesi dell'arco alpino, con i suoi tanti laghi alpini, ne contiamo quasi una cinquantina, con questo mondo acqua particolare, queste cascate, questi torrenti, queste valli laterali che sono molto selvagge, molto belle, cito solo la Val di Genova, che è anche soprannominata la Versailles d'Italia, da un lato e dall'altro lato, nella parte invece orientale, che è quello che vediamo adesso, giusto? Quello che vediamo adesso, le Dolomiti di Brenta, una delle nove complessi dolomitici che nel 2009 sono stati riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, anche qui la parte appunto orientale, con questa roccia completamente diversa, calcare, sedimentarie, la patria un po' dell'alpinismo. E che in effetti Campiglio è in mezzo a questi due, diciamo, terreni diversi, no? C'è la Dolomia, che è quella tipica delle Dolomiti, e un granito diverso invece dalla parte dell'Adamello, della Presanella, giusto? Sì, esatto, proprio questo che intendevo, insomma, che ci fa unici, no? Perché in così poco spazio abbiamo questi due complessi montani così differenti. E in mezzo c'è la nostra Varrendena, insomma, che parte da Campo Carlomagno e si estende fino a Porta di Rendena, sono 30 chilometri appunto, con ai lati questa unicità. Where the mountains meet, è il nostro un po' slogan, insomma, dove le montagne si incontrano. Una montagna selvaggia, Where, no? Guarda una grande... è un bello come slogan, eh? Sì, dove appunto le montagne si incontrano e appunto abbiamo dato risalto a questa caratteristica. Tanta natura, tanto... Tanta natura, bene anche queste immagini con le passeggiate, con i cavalli in mezzo al bosto, le immagini sono di Carlo Borghi, che è uno dei più bravi cameraman che io conosco nel mondo dell'operatività del turismo. Grazie per questa presentazione, avremo tante cose a raccontarci, la bellissima Madonna di Campiglio, la stagione che sta andando avanti fino a Pasqua. Chiudiamo questa prima presentazione con il main manager della Valle del Chiese. Per arrivare a Madonna di Campiglio, come ha detto Tullio, si sale dopo Tione, si arriva fino a Pasqua, a Campo Carlo Maglio, ma per arrivare a Tione si passa alle Valle Giudicarie. Dal Lago d'Idro, Brescia, si sale, in pochi chilometri si arriva al cospetto dello Domini di Brenta, Storo, Roncone e non solo, la Valle del Chiese. Ma diciamo che la Valle del Chiese... Ma puoi arrivare a Bolbeno, che è quella che è la chicca che avete voi. Allora, la Valle del Chiese in qualche maniera può essere una sorta di completamento di quello che diceva Tullio, e infatti il nostro slogan è tra il Lago d'Idro e le Dolomiti di Brenta con la Valle di Fumo, che è una valle maestosa che si inoltra nella zona proprio della Damello, quindi andiamo verso la sponda ovest della valle. Noi non abbiamo ovviamente l'offerta sciistica della rendena di Pinzolo di Campiglio, però da due anni abbiamo questo abbinamento con Bolbeno. Bolbeno è una piccola stazione sciistica delle giudicari, a pochissimi chilometri dalla Valle del Chiese e abbiamo lanciato questa offerta, Primi Passi sulla Neve, dedicata ai bambini e a chi si avvicina allo sci. Un'offerta importante anche dal punto di vista economico, perché il costo di queste iniziative è rapportato alla possibilità economica delle famiglie, si rivolge a chi si avvicina per la prima volta allo sci. Impara a sciare a Bolbeno, c'è il detto, e poi si va a migliorare a Madonna di Campiglio. Il futuro dovrebbe riservarci delle piacevoli sorprese, in qualche maniera questo percorso di cui abbiamo parlato dovrebbe completarsi, almeno queste sono le indicazioni che arrivano dall'assessore... del turismo, un po' di polemiche, ma non vogliamo fare polemiche, noi ci piace parlare di sport e di turismo, Bolbeno, l'amico Serafini e l'amico Bertolini, che gestiscono questo territorio, questo impianto, che è molto funzionale, perché hanno fatto gli accordi con le scuole, nel pomeriggio si conosce... I comuni. I comuni. Sono 47 comuni. Si può sciare in notturna, quindi chi lavora può andare benissimo a sciare. E' questa Valle del Chiese, che parte al Lago d'Idro e arriva alle Dolomiti di Brenta. Permettimi, finisco solo il discorso neve, e così lo archiviamo. Poi noi abbiamo delle offerte, ripeto, se vogliamo di nicchia, che sono tutta la serie delle ciaspolade, quindi tutte le iniziative camminate sulla neve con le ciaspole, e poi anche alcuni eventi, alcune opportunità di scialpinismo. Tutte le indicazioni, non sto a indicarle una per una, le troviamo sul sito visitchiese.it. Grazie per questa piccola presentazione, Madonna di Campina, Valle del Chiese, ora entriamo nel dettaglio di come sta andando la stagione, è venuto nelle scorse settimane, Bruno Felicetti, Francesco Bosco, delle funivie di Madonna di Campiglio, Bosco diceva che sono 12 anni che fa record, rispetto all'anno precedente, anche quest'anno più 20%, una stagione che abbiamo detto è iniziata a fine novembre, che va avanti sino al 19 di aprile. Ora poi arriva adesso il carnevale, con le settimane bianche, le giornate più lunghe, la stagione finirà in bellezza. Sì, allora, siamo soddisfatti ovviamente, il mese di dicembre ci dà un più 6 sulle presenze, e anche il mese di gennaio, che adesso ha chiuso con i dati definitivi, o quasi definitivi, anche quello ci dà un più 6 di presenze. Faccio una piccola parentesi, perché a volte la presenza non significa sempre positività nella qualità dell'ospite, noi stiamo cercando in questi anni, sia a Madonna di Campiglio, che a Pinzolo, che in tutta la valle, di alzare quella che è la qualità, e io credo che sia un processo che sta andando avanti bene, le funivie ovviamente sono da traino, però anche la qualità dei servizi che viene offerta, soprattutto dal mondo del ricettivo, e anche del commercio, va in quella direzione. Quindi diciamo che siamo soddisfatti, i commercianti come sempre, in questa fase storica, sono quelli che un po' soffrono un po' di più rispetto agli altri, però, ripeto, la volontà è quella di alzare la qualità dell'ospite per trovare un ospite sempre... Una qualità che è già alta, perché chiediamo Madonna di Campiglio ha ben tre ristoranti stellati, proprio nel centro storico, che non è da tutti, ben tre ristoranti stellati, e soprattutto la più alta concentrazione di hotel 4 stelle delle Alpi, e adesso anche un 5 stelle a Pinzolo, che veramente sta richiamando anche i target, come dicevate voi, target prestigiosi, target... Questa è una bellissima veduta, per chi ancora non conosce, la bellissima Madonna di Campiglio, belle le immagini del drone, giustamente in pochi chilometri, c'è insomma grandi alberghi, grandi ristoranti, e poi l'offerta anche per 5 stelle, che non è male. Sì, l'imprenditoria privata in questi anni ha investito molto di questo, insomma siamo molto soddisfatti, perché se c'è poi l'aiuto anche del soggetto pubblico, insomma l'azienda si mette anche a disposizione da fare un po' da soggetto di regia, però se l'imprenditore privato poi non crede nella località e non investe, insomma non si riescono ad ottenere dei risultati, quindi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti. Insomma la strada è presa e continuiamo in questa direzione. Questa è l'immagine dello spinale, giusto? Il famoso scale Fiat, sullo sfondo il Grostè, il versante verso la Valdinon, verso la Paganella, e insomma per chi ancora non conosce, questa che zona è invece? Questa qui siamo sempre sulla Maga Fevri, questa qui è sotto lo Sciale Fiat, sotto lo Spinale, insomma sono territori molto belli. Bello vedere lo spessore di neve sopra i tetti, questo è un buon segno. Faccio un piccolo cenno storico, se mi permetti Floriano, Campiglio nasce turisticamente in estate perché il visionario nel 1864 tale Giambattista Righi che acquistò questo monastero a Madonna di Campiglio ne fece il primo stabilimento alpino, insomma il primo albergo e poi nel 1875 costruì la strada. La strada che unisce la Varrendena a Pizzolo sulla Campiglio, una certa principessa di nome Sissi, la moglie Francesco Giuseppe. Esatto, a fine 800 venne la prima volta alla corte asburgica con la Sissi e poi tornò nel 1894 con l'imperatore e poi con i primi del 900 ci furono i primi sciatori inglesi, nel 1910 non c'erano ancora gli impianti e poi nel 1930 fu costruita la prima sciovia e poi nel 1947 nacque la società Funivie che insomma diede questo impulso importante. E poi la mitica 3-3 che è la gara top nel mondo della neve della Coppa del Mondo di sci nel 49 come tre gare in Trentino, poi tappa fissa il 22 di dicembre a Madonna di Campiglio. Insomma, brella questa presentazione, Piazza Righe e Piazza Sissi sono le due piazze principali, proprio in ricordo di questi due personaggi che hanno lanciato la bellezza di Madonna di Campiglio. Grazie a Tullio per questa bellissima presentazione. Settimana di Carnevale. Allora, abbiamo parlato della Valle del Chiese con questo suo bellissimo impianto funzionale bolbeno, le sue ghiacciai, le sue, diciamo, piste ghiacciate, la Val di Fumo, il suo lago, ma la peculiarità della Valle del Chiese è questa settimana, quello che sta arrivando, il Carnevale, il Carnevale di Storo, famoso per la sua polenta, l'oro rosso, come lo chiamano questa polenta? L'oro rosso, l'oro rosso. L'oro rosso, questa tipica polenta del territorio delle Valle Giudicari, ma anche il Carnevale. Sì, è un Carnevale particolare perché è il più grande d'Europa per carri statici. I carri sono talmente grandi che non possono più muoversi all'interno dell'abitato di Storo e quindi vengono posizionati su un circuito alla periferia della cittadina e è il pubblico che si sposta di carro in carro per assistere alle scenette. Teniamo conto che mediamente il sabato, che è il sabato di Carnevale in Meneghino, perché il Carnevale di Storo non finisce con il Martedì Grasso, ma l'ultimo appuntamento, il sabato dopo il Nacoli delle Cene, esatto, e sono circa una ventina le macchine con un migliaio di figuranti. Sono veramente macchine enormi. A Storo c'è un umorismo e anche un tema satirico molto spiccato per cui ogni anno i carri rappresentano scene vissute durante l'anno. Queste sono le immagini dell'edizione 2019. Abbiamo visto anche il sindaco con la fascia di colore, bello scatenato. È sicuramente un appuntamento significativo ed è un po' l'inizio della nuova stagione, la stagione primaverile. Subito dopo, entrando in Quaresima, uno degli eventi più significativi è Battidur di Bore. Sono questi tronchi lunghi 30 metri che vengono portati e battuti con dei martelli in legno e simboleggiano la mancanza delle campane che una volta venivano fermate durante la Quaresima. Ed è un evento particolarmente significativo che si svolge la sera. L'ultima settimana di febbraio perché il sabato, se non sbaglio, è il primo di marzo il Carnevale Ambrosiano. Il 29, sabato 29. Domenica è il primo di marzo. Ecco, belle queste immagini. Grazie Diego. Quindi un'altra peculiarità della Valle del Chiese e non solo. Il suo lago, i suoi sport acquatici, il suo fiume. Chiese è uno dei più pescosi d'Italia che richiama appassionati da tutto il mondo. Il lago d'Idolo per i suoi sport, il deltaplano, che è uno sport bellissimo delle giudicari, ma anche della Varrendena. Il canyoning. Il canyoning che abbiamo fatto, le discese del rafting, il canyoning. Insomma c'è di tutto. Poi dell'estate ne parleremo nella seconda parte. Tullio, abbiamo detto dello sci, della storia di Madonna di Campiglio, dell'ottima stagione. Ora, fine stagione, parte lo scialpinismo. Lo scialpinismo che ci sono le finali di Coppa del Mondo i primi di aprile, ma c'è anche la possibilità di farlo in notturna. Lo scialpinismo, che è un'anima importante del vostro territorio, un certo Cesare Maestri, che ancora salutiamo, che ha 90 anni, vive lì da voi, è uno che insieme a Walter Bonatti, Cassin, hanno fatto la storia dell'alpinismo. Sì, ovviamente l'inverno non è solo sci, la schiare è il nostro prodotto più importante, ma è tanti sport outdoor. Prima di parlare dello sci alpinismo, una piccola parentesi. Stiamo attivando un'iniziativa l'8 marzo, in occasione della festa della donna, ma non è a caso questo, perché poi è la donna che spesso dà delle direttive per la vacanza di tutta la famiglia. Faremo una giornata di esperienze, cioè ci sarà una giornata con la possibilità di salire sugli impianti gratuitamente e all'arrivo di ogni impianto ci sarà un'attività outdoor da poter fare, anche questa gratuitamente, dal parapendio, alla ciaspolata, alla sci alpinismo, insomma, ha tante attività che completano quello che è il programma invernale. Ormai il mondo outdoor va a complementare la settimana bianca, va a complementare lo sci alpino, una volta ci sciava e basta, adesso c'è voglia di cose diverse. Anche questo del notturno non è una bella proposta. Per quanto riguarda lo sci alpinismo, è il secondo anno che noi, in collaborazione con la società Funivie, avviamo questa iniziativa, la possibilità per i tanti appassionati, e sono sempre di più, di poter salire di notte, dalle 18 alle 21, in notturna appunto, in massima sicurezza, perché quello che è la battitura delle piste viene sospesa per quella fascia oraria, poter salire fino al rifugio Graffer, quindi nella zona del Grostè, poter fermarsi a mangiare qualcosa, bere qualcosa, e poi poter scendere sempre in massima sicurezza. Diciamo che questa è una delle tante iniziative che vanno a promuovere uno sport che piace sempre di più anche ai nostri clienti fidelizzati, che sono quegli ospiti che da tanti anni hanno la casa a Campiglio, che sciono da tanti anni e hanno anche voglia di provare qualcosa di diverso. Per completare l'offerta dello scialpinismo, quest'anno hai citato tu prima, per il terzo anno, dalle 2 al 4 aprile ci saranno le finali di Coppa del Mondo, sempre Madonna di Campiglio, la 46esima edizione della Schialp, nata 46 anni fa, è entrata nel circuito della Coppa del Mondo, anche questo insomma è un evento molto importante organizzato dal comitato. del top avete la 3-3 nella Coppa del Mondo di Scialpino, avete la Schiapp, 46esima edizione nel mondo dello scialpinismo, scialpinismo che ricordiamo nel 2026 ci sono le Olimpiadi in Italia, Milano e Cortina con molte gare in Trentino per quanto riguarda il ghiaccio, lo sci di fondo, lo sci nordico, ma ogni paese come Olimpiadi, come paese organizzatore può portare delle nuove discipline, lo fu il judo il Giappone a Tokyo nel 64 per altre discipline nel corso degli anni e si dice e si spera che lo scialpinismo visto che l'Italia può vincere perché domina a livello mondiale possa ospitare e diciamo proporre lo scialpinismo. Già c'è stata l'apertura ai giochi olimpici di Lausanna giovanili quindi può essere un buon sogno che si realizza, anche voi tanti sogni si sono realizzati come il collegamento da Pinzolo fino a Madonna di Campiglio e soprattutto anche questo lo scialpinismo voi vi candidate a ospitare chiaramente. Ma intanto aspettiamo il 2022 che sarà presa una decisione intanto al di là di quello che è il discorso olimpico che è sicuramente molto invitante però ci proseguiamo con alcune attività. Abbiamo visto l'offerta gastronomica dei rifugi in alta quota mentre parlavamo di sci alpinismo torniamo in valle torniamo nelle valli giudicarie le valli giudicarie tu Diego lo dici presenti sempre che è un piccolo trentino in scala miniatura perché c'è tutto? Un piccolo trentino compresso perché c'è tutto ci sono tutte le produzioni del trentino abbiamo le montagne abbiamo le alte vette abbiamo la produzione rurale la ruralità è uno degli aspetti importanti e a riguardo come dire della fine dell'inverno inizio della primavera ricordo che avremo una tappa del Tour of the Alps l'arrivo della penultima tappa e poi la partenza arrivo a Pieve di Bono e poi la partenza dal Lago d'Iro a luglio avremo poi la Transalp è una delle attività outdoor che stanno emergendo in Valle del Chiesa assieme a tutte le altre che hai citato tu prima e ricordo che tra un po' inizierà anche il calendario della pesca saremo presenti a Vicenza a fine mese al Salone della Pesca di Vicenza è un'occasione importante per promuovere perché voi avete lo ricordiamo queste bellissime montagne che sono le Dolomiti di Brenta e la Damello sono le acque più diciamo ricche di pesci d'Italia d'Europa sicuramente arriva tutto allora Sarca e Chiese sono i due fiumi che possiamo il Sarca va nel Lago di Garda confluisce nel Lago di Garda il Chiese invece va nel Lago di Idro questo è appunto il Lago di Idro c'è un'offerta acquatica abbiamo visto per quanto riguarda l'estate e tutto ma sono fiumi pescosi molto amati appunto anche dagli appassionati della pesca in questi anni sono stati fatti dei grandi passi avanti saremo tappa nel 21 dei campionati europei master quindi anche la pesca sta diventando una nicchia di attività outdoor importante significativo è un'occasione per allargare il mercato il periodo di vacanza anticiparlo e fare la coda noi siamo sportodoro.tv perché da anni che predichiamo il verbo dell'outdoor in Germania vale il 25% in Italia solo il 4% ma è un dato in incremento in costante crescita grazie alle offerte che fate voi territori montani ricordo una piccola corra ulteriore sull'outdoor che è il boulder val di fumo una grande occasione perché è proprio un'area avvocata particolarmente a questa disciplina Tullio queste immagini estive fanno venire voglia anche d'estate mancano ancora più di due mesi alla fine della stagione invernale tante settimane bianche tanto sci alpinismo schiudete il 19 di aprile poi a maggio arriva il ciclismo la tappa del giro d'Italia poi le esperienze di mountain bike e poi anche voi il mondo outdoor insomma la pera delle dolomiti brava d'inverno ma anche ottima organizzazione anche d'estate sì l'inverno insomma siamo a metà inverno però la programmazione per l'estate ovviamente è già partita avremo questo l'evento più importante insomma che sarà il 27 il 28 di maggio con l'arrivo di tappa a Campiglio il 27 Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio e il giorno successivo la partenza da Pinzolo Laghi di Cancamo e la tappa insomma del giorno successivo il ciclismo è sicuramente uno degli sport a cui noi teniamo di più in cui noi investiamo di più quest'anno appunto la Coravana Rosa arriva per la quinta volta a Madonna nella nostra valle l'ultima volta è stata nel 2015 con la vittoria di Landa e poi mi piace ricordare insomma il 1999 la tragica pagina di Marco di Pantani quando appunto visse Marco Pantani e quest'anno lo ricorderemo in un modo particolare ciclismo per noi è ciclismo sì da strada e in settembre il 6 di settembre ci sarà la terza edizione della Top Dolomites Gran Fondo è una gara è una Gran Fondo molto 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 bella siamo stati un po' sfortunati le due edizioni passate perché il tempo ha un po' flagellato il percorso però un percorso che collega appunto Madonna di Campiglio al Lago di Garda e ritorno sempre come ciclismo poi avete grandi percorsi anche legati alla mountain bike impianti lo ricordiamo aperti sempre da fine maggio fino al primi di novembre quindi impianti che portano in alta quota gli escursionisti che vogliono fare camminate ma tanti come vediamo con la propria mountain bike perché poi si fa fatica a salire ma si sale con gli impianti e si scende con la bicicletta la mountain bike anche qui gli impianti i percorsi sono tantissimi il Dolomite di Brenta Bike abbiamo anche qua un evento importante il 28 di giugno la settima edizione della Dolomitica un testimonial di eccezione che è Marco Melandri mentre invece per la top non lo mai sappiamo Francesco Moser che ci supporta da qualche anno hai citato l'apertura degli impianti ecco anche qua è importante dirlo in occasione del Giro d'Italia verranno aperti gli impianti il 27 di maggio per tre giorni e poi dal 6 di giugno fino a fine settembre tutti i giorni e quest'anno abbiamo anche in collaborazione con Funivie la possibilità di tenere aperto tutti i weekend di ottobre e quindi insomma per godersi ormai tutto l'anno praticamente poi Agro Stenevica già a metà a fine novembre esatto quindi praticamente siete fermi ormai siete fermi 15 giorni a novembre esatto e i primi di maggio basta ormai si va sempre in montagna sempre per il mondo bike legato anche un po' al filone della tutela dell'ambiente insomma organizzeremo verso la metà di settembre questo congresso di Bike Economy dove si prenderanno un po' a tema quello che sono per noi anche delle criticità insomma il traffico la mobilità alternativa abbiamo iniziato con il parco naturale da Mello Brenta un discorso del plastic free insomma adesso sui rifugi dall'inverno prossimo vorremmo fare in modo che ci si liberi insomma della plastica insomma andiamo verso la direzione del sostegno della tutela ambientale ecco quindi è tutto un mondo nel quale ovviamente questo è il territorio che Ivano ha lasciato i vostri nonni centinaia di anni fa i nostri nonni l'hanno conquistato con la prima guerra mondiale e giustamente siete bravi a preservarlo e non rovinarlo come fanno tante altre zone bellissime della nostra Italia queste immagini parlano da solo da sole guardate chi è che non la voglia andare in montagna a farsi una passeggiata una camminata si sale con gli impianti si scende con la bicicletta però c'è il percorso nero rosso e blu proprio come d'estate ci sono le piste appunto per la mountain bike come d'inverno ci sono le piste da sci di discesa belle queste immagini grazie Tullio grazie agli amici delle Funivie e ad Alberto Avoltolini che ha preparato queste bellissime immagini siamo in chiusura Diego la Valle del Chiesa hai parlato 23-24 Tour of the Alps ecco anche voi come state siete forti perché avete l'offerta acquatica che abbiamo visto 400 km di mountain bike di tracciati ricordo il giro dell'orizzonte l'unico tracciato che per 20 km ti fa pedalare oltre i 2000 metri ma avete anche la Transalp che arriva sono due cose diverse Transalp e Tour of the Alps giusto? Tour of the Alps è l'evento tra i maggiori a livello internazionale di ciclismo professionistico arrivo a Pieve di Bono partenza da Baitoni sul lago d'Idro metà luglio l'arrivo della Transalp una sorta di giro d'Italia a tappe dall'Austria alla Baviera alla Germania al lago di Garda grazie per questa presentazione il Valle del Chieso ricordiamo si sale dalla pianura padana Brescia si arriva al lago d'Idro e poi si sale Storo Toroncone si arriva fino appunto all'inizio della Val Rendena quando poi parte la bellissima Valle Rendena un territorio diciamo ricco di storie di culture di grandi eventi come ci hanno presentato i nostri amici Tullio Serafini che ringrazio siamo quasi in chiusura Tullio Serafini presidente dell'azienda per il turismo di Madonna di Campiglio salutami gli amici del territorio grazie Tullio Diego De Cari media manager della Valle del Chiese ora c'è la pubblicità un saluto visitchiese.it visitchiese.it fatto questo piccolo appunto pubblicitario che male non fa ora c'è la pubblicità vera cari amici del rispettatore non toccate il telecomando perché parleremo ancora di montagna neve e sport invernali lasceremo il Trentino occidentale alla Val Rendina alla Valle Giudicare a Manoli Campini e andremo in Val di Fassa a tra poco non toccate il telecomando I'm Bodhi Miller a World Cup ski racer this area of Trentino is very special from the family relationships the food the nature the mountains they all come together in a very special combination here in Trentino I really enjoy the experience of the mountains Sanice fatti di sport è arrivato l'inverno ed è arrivata la neve è tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano Schi area Campiglio Dolomiti di Brenta 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta Ad Amello Schiride sabato 18 aprile settima edizione comprensorio sciistico Alpelusa San Pellegrino 100 km di piste e 24 impianti di risalita nel Dolomiti Superski riscopri il tuo ritmo naturale ad ogni respiro scivola sulla neve cammina e pedala sui senzieri le montagne e le colline del Piemonte ti aspettano Piemonte it's snow time in collaborazione con Schirama Dolomiti Ad Amello Brenta Funivie Folgarida e Marilleva Val Sugana Val di Fassa Peio Me y me me di me Grazie a tutti.